Fatti un NAS configurazione facile Chiavetta USB con ventoi, trovi qui il video Ti procuri un'altra chiavetta USB Io ho utilizzato una micro SD installata in un adattatore E installata nel computer con lettore SD Nel computer identifica le porte SATA Possono esserci scritti sulla scheda madre SATA, SATA1 In questo caso SATA1, SATA2 Sull'altro computer, quello che ho utilizzato SATA0 e SATA1 E mettici dentro collegati gli hard disk Questo è il cavetto dati dell'hard disk Che va collegato sulla piastra madre dove c'è scritto SATA, SATA1 Questa è il cavetto alimentazione del SATA Questo è un hard disk SSD, in questo caso 500 GB Ma non utilizzerò questo Ed è la scelta migliore, la scelta più veloce ed economica Anche in termini di energia Questi sono gli hard disk di portatili Sono la scelta migliore se li trovi molto 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 economici Perché sono piccoli, consumano poco, circa 5 Watt E possono avere un discreto spazio Ad esempio questo è da 1 TB Io invece ho utilizzato due di questi Da 2 TB, consumano 10 Watt l'uno 10 Watt ora E li ho incastrati in un computer abbastanza piccolo Questo è il computer Come vedi qui davanti ho lo slot delle micro SD Delle SD Quindi installerò qua dentro la mia SD E già ho incastrato dentro i due dischi da 2 TB In questo modo due dischi da 2 TB Su cui installare lo storage Andremo quindi a fare la soluzione più economica possibile Ovvero un NAS autocostruito con due dischi da 2 TB In RAID 1 Quindi avremo uno storage totale Spazio di archiviazione totale da 2 TB Questo sistema operativo che andremo ad installare Ti permette anche di installarsi Su una doppia chiavetta Una doppio SD Un doppio hard disk In modo da avere anche l'installazione del sistema operativo ridondante Ti faccio vedere le immagini a breve Come puoi vedere questa è l'installazione Dove come SD A e SD B ci sono i miei due dischi da 2 TB E qui ci sono due chiavette USB Per l'installazione del sistema operativo in modo ridondante Per l'installazione di questo sistema operativo Ti consiglio di acquistare a parte almeno due chiavette da 16 GB Se non da 32 GB meglio ancora Perché altrimenti non si installa il sistema operativo perché ha bisogno di spazio Come puoi vedere in quest'altra foto Questa è la mia installazione fatta sulla scheda SD Ne ho usata solo una da 16 GB Ed è andata a buon fine Per cui hai bisogno di una chiavetta USB Per l'installazione del sistema operativo almeno da 16 GB Su cui installerai ventoi Trascinerai la ISO di TrueNAS Avrai bisogno di due chiavette USB Ma puoi farlo anche con una O l'installazione con una chiavetta USB Una SD Oppure puoi mettere tutto su un hard disk di recupero O su un SSD Puoi installare il sistema operativo dove vuoi Io ovviamente ho fatto tutto su un SD Perché volevo avere tutto più compatto possibile Per lo storage hai bisogno di due dischi uguali Quindi due da 2 TB Due da 1 TB Due da 500 GB Questo per fare la configurazione mirroring o a specchio RAID 1 Che è quella più economica E quella con la ridondanza più economica Altrimenti hai bisogno di sempre più dischi E di andare a scegliere un RAID 5 O altre tipologie di RAID In base alle tue preferenze La scelta migliore sono sempre gli SSD Perché ad oggi ti permettono di avere un buono spazio E la velocità più veloce Il computer deve essere dotato anche di scheda di rete Degli agganci per connettere almeno una tastiera Per la prima installazione Dopodiché si potrà configurare tutto via rete Andiamo a vedere come sapere che indirizzo IP dare al nostro NAS Come sistema operativo vado a scaricare TrueNasScale Ho scelto questo sistema TrueNasScale Oggi è disponibile nella versione 2.2.12 La scarico E la metto direttamente sulla chiavetta USB con ventoi Intanto che aspettiamo il download della nostra distribuzione Andiamo a cercare Advanced DP Scanner Lo scarichiamo Avviamo l'installazione O avviamo comunque il programma Scegliete voi Ci ritroviamo in questa sezione Andiamo a fare la scansione E qui verranno elencati tutti i nostri IP della nostra rete Così andiamo a sapere Qual è l'IP O comunque qual è la rete distribuita dal nostro router Che in questo caso la rete è la 192.168.1.0 All'interno della rete 192.168.1.0 saranno distribuiti sicuramente 255 indirizzi di rete Di questi 255 ne andremo a scegliere uno Ora ognuno di noi è libero di scegliere quello che vuole Sicuramente deve scegliere quello che non è occupato da un altro sistema Quindi non può scegliere quelli che verranno elencati Deve andare a scegliere un indirizzo che ricorderà a memoria per sempre Ad esempio i pro, i veri pro vanno a scegliere anche un indirizzo appena vicino al router Quindi in questo caso potrei scegliere l'192.168.1.2.5.3 Oppure altri scelgono Dato che il router potrebbe avere un indirizzo 192.168.1.1 L'indirizzo 192.168.1.2 Oppure 1.10 Nel mio caso che sto seguendo la mia logica Ovvero quello di andare avanti per moltipli di 11 Andrò a scegliere in questo caso un indirizzo consono Che appena deciso qual è vi faccio sapere Ora potete vedere come nella chiavetta chiamata ventoi ci sono un po' di ISO Vado ad incollare l'ultima ISO che ho scaricato E sarà disponibile per l'installazione del sistema operativo sul NAS Avviate tutto mettete la password di amministratore e vi ritroverete che il vostro server DHCP della vostra rete ha assegnato un indirizzo al vostro NAS Come potete vedere sul mio sistema vi è stato dato un indirizzo dal DHCP del mio router Ed è 192.168.1.163 Mi vado a connettere a questo indirizzo per avviare l'amministrazione di rete Per cui scrivo banalmente 192.168.1.163 E il server risponderà e farà il resto Non fate caso che qui c'è scritto non sicuro perché effettivamente non c'è un certificato di sicurezza su questo server Ma non ci interessa perché siamo ben schermati all'interno della nostra rete LAN Qui dovete mettere il nome e la password che avete scelto in fase di installazione Attenzione che in fase di installazione vi propone tre nomi utenti Se non erro uno è root e non è consigliato l'altro è admin Io ho scelto admin e poi la password che andrete a mettere Siamo al suo interno la prima cosa che vi invito a fare è quello di andare a scegliere nel network l'interfaccia di rete Andare a togliere questo qua che si è scelto perché se lo tenete spento Quando lo riaccendete non è detto che risponderà a questo indirizzo Ritorniamo su advanced dp Su advanced dp scanner dovete andare a scegliere un indirizzo ip libero Quindi non deve essere elencato all'interno di advanced dp scanner Potete scegliere l'indirizzo che volete basta che non sia elencato Quindi io non posso andare a scegliere questi che sono elencati Altrimenti creeremo un conflitto Fate attenzione all'indirizzo del router che nel mio caso è bello scritto Questo qui sarà il default gateway 192 168 1254 Io avevo già scelto di dare l'indirizzo a questo NAS che risponde al finale 22 L'avevo già messo in progetto alla realizzazione della mia rete Ritorno sulla mia interfaccia grafica Vado a cliccare sull'interfaccia in network E vado a togliere il dhcp Vado ad aggiungere il mio indirizzo ip Che ho detto che ho scelto 192 168 122 E barra 24 ad indicare tutta la rete Faccio un save e mi chiederà il default gateway Che vi ho detto essere il vostro router Quindi nel mio caso 192 168 1254 E registro Al momento della registrazione mi chiede se voglio testare il mio cambiamento effettuato Testo Confermo di effettuare il test Dal momento che lui sta continuando a girare Sicuramente mi ha già cambiato l'indirizzo E vado a testare se all'interfaccia 1.22 accedo Come vedete posso salvare i cambiamenti E ho impostato l'indirizzo del mio NAS All'ip che desidero E rimarrà per sempre questo Perché all'interno della mia rete Il router si segnerà che questo sarà un indirizzo Definito per sempre Scritto nelle tabelle di routing Vedete E' già stato identificato come true NAS Se vado a controllare nello storage Nella sezione dischi Vedete che trovo I miei tre dischi collegati Ovvero la SDF è la mia schedina SD Tenete presente queste sigle Sono sigle derivanti da Linux Che indicano SATA disk A SATA disk B SATA disk F Non indicano altro SDA quindi è il SATA 0 Il SATA 1 Installato sulla scheda madre SDB sarà il SATA 1 O SATA 2 In base a come lo hanno chiamato sulla scheda madre E questi qua sono i dischi Su cui andremo a creare il pool Quindi ce ne andiamo in storage E facciamo create pool Per creare il nostro primo pool Andiamo a selezionare i due dischi I due dischi da 2TB Andiamo a scegliere Quindi a trasferirli di qua E vedete che già Ha scelto La nostra configurazione Mirror Ovviamente lui Non ci dà Altre soluzioni Ci darebbe lo stripe Ma stripe Significherebbe Non fare ridondanza E andare a fare Una somma Delle due capacità Senza ridondanza Significa che i dati Che sono sull'SDA Se un domani si rompe Andranno persi E non è la scelta migliore Anche se ci dà buono spazio Noi andremo a scegliere Il Mirror Ovvero Il RAID 1 Dove verranno Formattati E classificati Questi come un pool Ridondante Significa che se si rompe l'SDA I dati continueranno a funzionare Perché Interviene solo l'SDB In questo modo Ho creato Il pool Vado a dargli un nome Per creare il pool Gli devo dare un nome In questo caso Posso dargli un nome Che indica Quello che sto facendo Quindi Mirror Mirror 1 Quello che voglio Per capirci Qui posso andare a scrivere La tipologia di disco Tipo HDD2 Indica che questo è Un pool Con hard disk Da 2 terabyte totali O 2 da 2 terabyte In RAID La parola RAID Sinceramente Non mi serve Mi potrebbe bastare Anche così HDD2 Mi indicano Dei dischi normali Grossi Da 2 terabyte Andiamo sull'accetta No che l'ho accettato Aspettiamo che finisca L'unione E la creazione Del RAID 1 Ok Abbiamo Una bella interfaccia Grafica Che ci dice Che abbiamo Creato qualcosa Non vi fate Non vi fate Trarre in inganno Da quello che dice qui Perché vi vorrebbe Far assegnare Anche il disco Di installazione Ad un pool Ma non è il nostro caso Altrimenti ci giochiamo Il sistema operativo Abbiamo un mirror Con 2 dischi Come potete vedere All'interno del mio computer Windows Ho già una condivisione Questo Net disk Da 2 terabyte È l'attuale Mio server NAS Che viene raggiunto Al 33 Al numero 33 All'ip Che finisce Per 33 Ed è già Bello pieno Ed è anche Questo uno Dei motivi Per cui sto Dedicando Un'ulteriore Condivisione Quindi andrò A aggiungere Un net disk 2 tb Sempre Lo chiamerò In qualche altro Modo Per differirlo Da questo E andrò Quindi a creare Una condivisione Samba Ovviamente Andando a creare La risorsa Condivisa Ad attivare Il servizio E adesso Vediamo come fare Allora per prima cosa Per la logica di TrueNAS All'interno di Dataset Vado a crearmi Il mio Dataset In questo caso Io ho bisogno Di una cartella Video E la creo Così Salvo E ho creato La mia cartella Video All'interno della cartella Video voglio andare a crearmi La mia condivisione Samba Mi sposto poi In shares E vado ad aggiungere La mia condivisione Non vado però All'interno della cartella Video Vado un attimo Sopra Nome Va bene così Potrei mettere un nome Come net Disk 2 TB Tratti Ok Per 22 Indico che è il mio server 22 In modo che si possa Differenziare Dall'altro Che poi magari Gli torna Nome E salvo Mi chiede giustamente Di abilità e servizio Abilito e servizio Torno Sul mio pc Vado Ad interrogare Il 22 Noterò che ho Il nome che gli ho dato E la mia cartella video E come potete intuire Non lo so se potete intuirlo Ma qui non posso scrivere E all'interno della cartella video Posso scrivere Che è abilitata Agli utenti E comincio a fare Il backup Delle mie cartelle video Giusto per rendermi le cose Un po' più semplici Vado a fare Tasto destro Sopra La cartellina Connetti unità di rete E questa sarà L'unità V Ad indicare Che attualmente È il backup Dei miei video Me la ritroverò Qui Eccola qui Vuota Con quasi 1 TB E 75 A disposizione Quanto consuma Questa soluzione Si accettano scommesse Allora Siamo a 50 Watt Ho attaccato Il NAS Ad una presa intelligente 52 Watt Vado a spostarci sopra A fare un trasferimento Di file Così metto in moto I dischi Quasi 70 Watt 64 Watt Devo buttarci qualcosa Di un po' più Pesante Che deve durare Qualche minuto Diciamo che 73 Diciamo che ho visto Delle punte In accensione Di 80 Watt Considerando che ci sono Due dischi Che consumano 10 Watt L'uno Quindi solo loro Sono 20 Watt E sinceramente Ho scelto anche Un computer piccolo Molto silenzioso Quindi Lo posso attaccare Anche dove voglio Comunque abbiamo Un massimo di 80 Watt Attualmente siamo A 76 Watt Di consumo Quindi Fate i vostri conti 70 80 Watt Ora Se lo dovete lasciare Acceso H24 Oppure Se fate come me Che lo accendete Solo quando Quando vi serve Quindi abbiamo Un minimo Tra i 50 E gli 80 Watt Io mi fermo qua Ovviamente Non è per tutti Fare un mass A casa Bisogna avere Delle conoscenze Io ho preso Ho dato per scontato Tante cose Diciamo che questo video Va un po' a rispondere Ad alcune richieste Che mi sono state scritte Nei commenti Dove vedevo che ci sono Delle piccole lacune Per quanto riguarda Come trovare il NAS Come dargli un indirizzo Pi Eccetera eccetera E' molto utile La sezione commenti E' utile anche per me Se voi avete bisogno Di qualcosa Potete scriverlo La community vi aiuterà Io vi aiuterò Scriverò tutto quello Che posso Per darvi una mano E comunque La sezione commenti Mi aiuta anche a capire Quali sono le vostre lacune Per poter creare Altri video Mentre faccio altre cose Affinché questo Vi possa aiutare Se volete farmi capire Che il video vi è piaciuto Mettete un like E iscrivetevi Se vi piacciono Tutto ciò che porto Sul canale In modo che posso Continuare Essere spronato A farlo Grazie E non di dimenticare Di farmi sapere Se ti è piaciuto il video Ciao 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 Ciao